Punto e a capo. La società balestrieri della città di Gubbio ha voluto spiegare e soprattutto illustrare le conclusioni sulla vicenda di quella che si può definire la verretta della discordia dopo l'ultimo palio tra Sansepolcro e Gubbio avvenuto lo scorso 31 settembre nella città biturgenze. Un'edizione che ha visto il primo posto di Gianni Bergamaschi, prefidente della società balestrieri di Sansepolcro, davanti al legubino Alessandro Mancini. Ma in realtà la verretta vincente sarebbe stata quella di Andrea Cestelli, sempre della società biturgenze, ma il puntale in questione era privo del nome del balestriere. Un giallo risolto dal regolamento del palio adottato nel 2014 di comune accordo tra le due società, che tra i vari punti predispone come una freccia senza nome da regolamento, debba essere squalificata, aspetto che la commissione giudicante ha attuato all'unanimità. Poi però la situazione ha subito ulteriori variazioni sul tema, come spiega il presidente della società balestrieri della città di Gubbio, Marcello Cerbella. Noi fedeli a quanto sosteniamo, a quello in cui crediamo, siamo rimasti, come ripeto, della nostra opinione. Praticamente il verdetto era quello del 13 settembre. Però, attenti alle richieste dei biturgenzi, abbiamo lasciato libera scelta loro di riscrivere la classifica. Loro hanno accettato e hanno riscritto la classifica rimettendo al primo posto il proprietario del puntale, che non recava il nome, il secondo e il terzo. Noi ne abbiamo preso solamente atto. Certi che il prossimo anno il capobanco di Sansepolcro sarà Cestelli-Andreas, il nostro Mancini-Alessandro, ma questa decisione è stata presa da loro e noi l'abbiamo solamente, come ripeto, ne abbiamo solamente preso atto. Questo per rispetto di regolamento che esiste, che non vogliamo invalidare, anzi vogliamo rendere ancora più forte e più efficace con le modifiche giuste che bisogna fare. I balestrieri di Gubbio, dunque, hanno semplicemente preso atto della decisione presa dai biturgenzi. Questo al fine di preservare lo spirito vero del palio, che è condivisione, spirito di fratellanza e amicizia, e non una mera sfida nella quale si cerca in tutti i modi di arrivare primi. Il sindaco di Gubbio Stirati ha espresso piena considerazione e rispetto delle sensibilità verso le tradizioni gubine, come verso quelle biturgenzi, auspicando come si possa continuare a vivere il palio nel senso più pieno e vivo delle sue origini. Il palio non è una gara, è una festa e bisogna salvaguardare quello che il palio, quello che ci ha portato negli anni e quello che i nostri anziani ci hanno insegnato.